E' diverso tempo che cammino, avrei voglia di fare una pausa, di infrescarmi un po'. Ho attraversato luoghi al mio sconosciuto, senza sentirmi mai a mio agio, ma per arrivare a quello che sto cercando non posso fermarmi, né tantomeno fare caso a quello che mi circonda. Devo proseguire, ti sto cercando, non ho idea se ti troverò, e soprattutto se mai ti troverò in che condizioni sarai. E potrei anche perderti. Sì, sì, ti troverò, sono fiducioso. Questa fiducia mi permetterà di trovarti, magari aspettando un altro po'. E forse riuscirò a rispettare ciò che ho promesso. Ah, se avessi un cavallo. Come scriveva Shakespeare, Galuppate veloci, o corsieri dai piedi di fuoco, alla dimora di Febo. Forse sono vicino. O forse no. Ma devo proseguire e camminare anche a passo veloce. Adesso più cammino e più mi sembra di essere vicino. Chissà. Mi sembra di... Ah, eccolo, finalmente. Trovato. Per oggi prendo il treno in orario, e arriverò in orario in ufficio, come promesso al capo. Sarebbe bello abitare al Cairo, e non a Roma. Sarebbe bello abitare al Cairo, e non a Roma. Sarebbe bello abitare al Cairo, e non a Roma.